Vincere aiuta a vincere, Little Service Pesaro lo sa e lo sta dimostrando. Dopo il trionfo di domenica in Coppa Italia, ieri sera i Biancorossi hanno sconfitto fuori casa per 3-2 l'Acqua e Sapone, allungando sui diretti avversari e chiudendo al primo posto in campionato con una giornata di anticipo. La partita ha visto sfidarsi le prime due squadre della classifica in quella che potrebbe essere stata l'anticipazione della finale Scudetto. Con il successo di ieri, Little Service ha ottenuto la dodicesima vittoria consecutiva in campionato, la diciannovesima su 25 partite, dimostrando di essere pronta e attrezzata per provare a vincere il secondo Scudetto di fila. Una vittoria importante quella ottenuta a Pescara, perché oltre ad assicurare ai Biancorossi il primo posto, gli permetterà di avere il fattore campo durante i play-off. Sabato 1 maggio, Pesaro è pronta ad incontrare il Kamedosson per l'ultima giornata di campionato. Il match verrà trasmesso in diretta su Rossini TV a partire dalle ore 18. Con i play-off che partiranno l'8 maggio, il finale di stagione entra nel vivo e Little Service vuole farsi trovare pronta.